Da una parte un'azienda foggiana di trasformazione del pomodoro il cui nome Rosso Gargano richiama alla mente la locuzione latina Nomen Omen. Dall'altra centinaia di percettori di reddito di cittadinanza disponibili a lavorare nel settore. In mezzo Ampal Servizi, l'assessorata al lavoro della regione Puglia e l'ARPAL, l'agenzia regionale per le politiche attive che hanno reso possibile l'incontro tra domande e offerte di lavoro. Questi i protagonisti del successo dell'azione di reclutamento di personale per la campagna estiva della trasformazione del pomodoro. I navigator hanno contattato e selezionato centinaia di beneficiari di reddito di cittadinanza e nonostante le difficoltà del momento storico che li ha obbligati a operare in remoto per rispettare le norme anti-covid, i risultati sono stati lusinghieri, a dimostrazione del fatto che la collaborazione tra pubblico e privato rappresenta la strada maestra per servizi del lavoro di qualità.